Benvenuti e bentornati a tutti su Una Lotta per la Vita. Nel video precedente di questa playlist abbiamo trattato la lussuria. Oggi vi parlerò della terza tentazione, l'avarizia, il rapporto deformato con le cose e con il denaro. Buon ascolto. Il mare non si riempie mai pur ricevendo un gran numero di fiumi. Allo stesso modo la brama dell'avaro non si sazia di ricchezze. Fono duplicate ed ecco che desidera che ancora raddoppino e non smette mai di raddoppiarle finché la morte non lo sottrae a questa interminabile preoccupazione. Evagrio Pontico. L'avarizia è la terza passione. Significa letteralmente amore per il denaro. Più in generale indica il rapporto dell'uomo con le cose. Il regolatore simbolico degli scambi che rende le cose merci e i rapporti mercato. L'avarizia è una brama disordinata che si manifesta come bisogno impellente dell'avere, come smagna insaziabile di accumulare beni. Lo stesso sguardo che si posa sul cibo o sul corpo altrui può essere posato anche sulle cose. L'avarizia è un vizio che si insinua lentamente nel cuore dell'uomo. Si inizia con il trattenere per sé ciò che può essere condiviso con gli altri. Si prosegue con l'accumulare senza mai essere soddisfatti. Ciò provoca una crescente inquietudine, la quale a sua volta genera l'ossessione dell'aumento del possesso. La logica che muove i comportamenti dell'avaro è quella mortifera del tutto e subito. La sua preoccupazione è quella di conservare ed aumentare ciò che si è acquisito. Si aumenta per conservare e si conserva per aumentare. È così il godimento dell'avaro è la previsione di goderne il futuro, ma poi questo futuro è costantemente rimandato. Chi è preda di questa malattia giunge fino a considerare la dimensione dell'avere come prevalente su quella dell'essere. Sono ciò che ho. Questo è il suo tragico motto. Francesco D'Assisi si va di bene ha chiamato il denaro sterco del demonio proprio perché in ogni azione compiuta dall'avaro c'è la puzza del denaro. Ma perché questa brama di possesso seduce tante persone? Perché regna una paura del domani che chiede di accumulare beni e denaro per far fronte alle incertezze e alle possibili malattie. L'insicurezza del domani appare compensata dai beni posseduti e così si scatena una bulimia dell'avere. Evagrio Pontico ci ricorda che l'avarizia fa intravedere una vecchiaia lunga, la debolezza delle mani nel compiere lavori, la possibilità della fame e di future malattie, le sofferenze dovute alla povertà e fa intravedere quanto sarà avvilente ricevere dagli altri ciò che dovrà servire alle proprie necessità. Ci ricorda anche Giovanni Crisostomo che l'avarizia deve essere assolutamente bandita dalla comunità cristiana. Il mio e il tuo, queste parole fredde, che introducono nel mondo infinite guerre erano state eliminate dalla Santa Chiesa nascente dei primi secoli. I poveri non invidiavano i ricchi perché non c'erano poveri, essendo tutte le cose comuni. Mio e tuo non sono altro che parole prive di fondamento reale. L'avarizia può e deve essere affrontata e ordinata perché in caso contrario rischia di accompagnare e definire tutta la vita. È in questo senso che Paolo ha potuto scrivere l'avarizia è la radice di tutti i mali. Il cuore di ogni uomo può infatti conoscere quanto è fascinoso il denaro e quindi può conoscere questa malattia della fissazione sull'avere che impedisce la comunicazione, lo scambio, la capacità di donare e di ricevere. Se Gesù ha detto vi è più gioia nel dare che nel ricevere, ciò significa che vi è ancora meno gioia nell'accumulare per sé. Chi è posseduto dall'avarizia pone nei beni il suo cuore. Là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore ci ricorda Matteo e così lo sottrae allo spazio vero dell'amore cioè l'incontro e la comunione con i fratelli e le sorelle. Si comprendono dunque i precisi avvertimenti di Gesù contro il denaro che egli addirittura personifica qualificandolo come un dio come l'antidio. Nessuno può servire a due padroni o dirà l'uno e amerà l'altro o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro non potete servire a dio e a mammona. L'avarizia è idolatria è figlia della mancanza di fiducia in dio che ci ha chiesto di non preoccuparci del domani lui che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. L'avaro può essere riassunto così fatica nell'accumulare timore nel conservare dolore nel perdere. Dunque quale può essere l'antidoto contro l'avarizia? Prima vi deve essere una conversione dei desideri un esercizio per giungere a ristabilire il primato dell'essere sulla vere. Poi vi è la rinuncia materiale ricordiamo le parole da ricco che era si fece povero per noi ed anche chi non rinuncia a tutto ciò che possiede non può essere mio discepolo. Occorre scegliere di rinunciare prima che ci costringa a farlo troppo tardi la vita stessa. Occorre soprattutto condividere il denaro, i beni, è questo il vero mezzo per uscire da se stessi, dal proprio isolamento e per farsi degli amici. Come diceva Gesù, fatevi degli amici con la ricchezza nella quale confidate e questi vi accoglieranno nelle dimore eterne. Il segreto è la condivisione fraterna che è il vero nome della povertà cristiana. Chi infatti si esercita a condividere conosce sempre di più la gioia che si sperimenta nel donare e nel vivere la comunione a partire da quella dei beni e una volta gustata questa gioia non può più farne a meno. Grazie dunque per l'ascolto vi chiedo un aiuto per l'algoritmo di youtube per sostenere il canale iscrivetevi cliccate anche la campanellina per essere avvisati all'uscita dei prossimi video. Se avete domande o consigli scrivete pure qua sotto nei commenti. Vi invito quindi ad ascoltare il prossimo episodio che sarà sulla collera, il rapporto deformato con gli altri. Un saluto a tutti, ciao!